Tre giorni di incontri ed eventi a GEA. Il Parco Biotecnologico, infatti, si apre alla città con un Open Days di tre giorni, da venerdì a domenica 3 ottobre, con un ricco calendario di incontri e attività all'insegna della natura, salute, sport e approfondimento scientifico. Primo appuntamento, la presentazione del progetto per il Parco GEA 2030, con i professori Alberto Giuntoli, Gabriele Paolinelli e Francesco Ferrini, coordinatore del Comitato Scientifico di GEA. Questo primo giorno è dedicato in particolare a presentare il percorso fatto in questi due anni e mezzo di vita di GEA e soprattutto a esporre i progetti per il prossimo futuro, progetti che riguardano sia il parco, l'ampliamento, il completamento, l'arricchimento del parco in termini botanici, in termini di fruizione e poi anche presentiamo GEA Lab, che è l'ultima nata e che porterà avanti dei progetti specifici per promuovere la ricerca, ma soprattutto l'applicazione della ricerca sul territorio. Tre sono le parole chiave di questo laboratorio, innovazione, etica green e salute, tutela della salute. Sabato mattina ci sono i laboratori didattici di GEA, un'esperienza del tutto innovativa in cui si vuole unire la visita del parco, la raccolta degli elementi naturali e poi la loro osservazione e il laboratorio, anche attraverso strumenti molto semplici ma efficaci per poter passare dalla grandezza naturale all'infinitamente piccolo. Cosa faranno i laboratori di GEA Lab e in particolare i laboratori di Function Aid? Function Aid dovrà valutare questa possibile doppia faccia per indirizzare poi le aziende a evitare quei prodotti che possono avere un impatto negativo sulla salute e potenziare quelli invece che ci mantengono in salute. GEA è un'area verde di oltre 25 ettari che nasce dall'impegno di Fondazione Caripit e dall'esperienza trentennale del Centro Sperimentale per il Vivaismo CESPEVI e si dedica alla ricerca e alla sostenibilità ambientale. GEA è una società strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio che si occupa appunto dei temi dell'ambiente, della ricerca, dello sviluppo ovviamente in chiave green e che cerca di mettersi a servizio di una transazione diciamo ecologica che è indispensabile e ormai imminente per il nostro territorio.